Ciao a tutti amici, io sono Little Grey Simmer e oggi siamo qui con una reaction al trailer di The Sims 4 Island Living, che in questo caso in italiano dovrebbe essere vita sull'isola. E sono prontissima a vedere il trailer insieme a voi, è successo tutto in un lampo, praticamente sono uscite delle informazioni, delle news qualche giorno prima dell'annuncio al replay, che è stato all'incirca un'oretta fa, quindi voi vedete questo video un'ora dopo. Come sapete io ci tengo a fare questi video reaction perché mi diverto appunto a reagire, a vedere appunto il trailer insieme a voi. Io ragazzi l'ho visto un po' in diretta ma non si è capito tantissimo perché appunto era tutto molto veloce, parlavano e basta, facevano vedere molti spezzoni, però adesso potrò vedere il video insieme a voi con più calma. Prima lo vediamo velocemente, dopo lo vedremo ovviamente pian piano. Ragazzi io come al solito metto l'audio proprio bassissimo per quanto riguarda appunto il problema di copyright e adesso partiamo con il video. Mi sono curiosissima di vedere un po' questa nuova espansione che ragazzi ricordatevi uscirà il 21 giugno, quindi questo mese. Non vedo l'ora ragazzi, via. Oh mio dio, oddio, oddio, che meraviglia ragazzi. No vabbè ma i capelli sono stupendi. Oddio. No vabbè. No vabbè. No ragazzi ma è qualcosa di spettacolare. Oh i chioschetti. L'inquinamento. Questo ne parlavano. Ragazzi ma io amo questi capelli e questi vestiti, cioè sono stupendi. Ma che schifo. No vabbè. Meraviglioso. No raga ma stupendo. Ma su un vulcano, sembrano tipo di Hawaii. Wow. No vabbè ragazzi. No vabbè ragazzi, che meraviglia le sirene. Oh mio dio ragazzi, avete visto? Torneranno le sirene. Oh mio dio, torneranno le sirene ragazzi. Cioè io sono sconvolta. Scioccatissima. Qui c'è scritto che appunto è possibile preordinare l'espansione. Però io ovviamente credo di aspettare Instant Gaming. Perché credo che questa volta non si comporterà come StrangerVille. Perché ovviamente quello è uscito all'improvviso. Mentre questo ovviamente Island Living è già stato diciamo inserito anche su Instant Gaming. Quindi credo che il preordine sia già possibile effettuarlo. Quindi non appena possibile io andrò a controllare sul sito di Instant Gaming e vi farò sapere anche qui sulla YouTube community. Ma adesso ragazzi, io direi di guardarlo un po' a rallentatore. Perché sono curiosissima di vedere tutto nei minimi dettagli insieme a voi. E lo commentiamo tutti insieme. Io devo essere sincera, questa espansione credo che sia proprio sincerissima, devo essere proprio onestamente sincera. Credo che superi alla grande nuove stelle ragazzi. Cioè nuove stelle e stagioni che per me sono state appunto le espansioni top di The Sims 4 degli ultimi anni. Io credo proprio che questa supererà proprio qualsiasi confine. Anche perché durante la live hanno detto che ci sarà il mare aperto qui su questo scenario. Quindi potremo esplorare i fondali come avete visto appunto nel trailer. E adesso andremo ad analizzare insieme ogni dettaglio. Quindi pronti! Abbiamo capito che siamo su un'isola. Potremmo utilizzare i, diciamo, i motoscafi. Ci saranno, come vedete, guardiamo un po', nuove tipologie di costumi. Sia due pezzi, sia il pareo, nuove tovaglie, quindi nuove interazioni qui sulla spiaggia. Nuovi capelli, se ci fate caso. Questa coda qui di lato, questi capelli forse già c'erano, quindi ok. Nuovi tatuaggi molto tribali, se ci fate caso. Nuovi costumi. Nuova carriera da bagnino, che è stata confermata appunto dalle immagini degli sneak peek usciti in questi giorni. Ci sarà questa carriera, quindi nuova, diciamo, questo nuovo elemento del... Questo nuovo dettaglio della pelle, in cui comparirà ovviamente questa cremina qui. Però ragazzi, strano ma vero? Ma, a parte questo che è un argomento molto importante, ma non sembra anche a voi una nuova barba questa? A me sembra una nuova barba. Non vorrei sbagliarmi, però sì. Andiamo avanti. Questa, ragazzi, quella che tutti aspettavamo, l'abbronzatura. Finalmente è arrivata. E spero soltanto che non si limiti con questo pack, quindi con questo expansion pack. Spero appunto soltanto che sia anche possibile far, diciamo, far prendere il sole ai sim in piscina, quindi in questo caso a casa propria, e abbronzarsi ovviamente in estate. Spero che non sia appunto come The Sims 2, in cui ovviamente ci si abbronza soltanto nello scenario della vacanza. In questo caso però non ho capito se è uno scenario appunto di residenza o di vacanza. Se voi ne sapete di più, fatemelo sapere qui sotto nei commenti ovviamente, ragazzi. Passiamo avanti. Quindi, come possiamo appunto vedere nuovi capelli che i ragazzi erano appunto dei ciccino, sto scherzando, che avevo appunto scaricato tanto tempo fa. Identici, ragazzi, identici. Li cancellerò perché li hanno fatti pure qui, quindi meravigliosi davvero. Stupendi. Nuovo trucco, non mi sembra che ci siano nuovi accessori e quant'altro. Come possiamo vedere, qui ci sono una valanga di immagini, anche i bebè finalmente, ragazzi, potranno giocare con la sabbia. Non mi ricordo se su The Sims 2 era possibile fare una cosa del genere. Nuovi luoghi di pesca, in cui pescare. I sim, come potete vedere, potranno nuotare tranquillamente in mare. Potranno stare qui in barca a vela, utilizzare appunto il motoscafo, tantissime nuove cose. Quindi abbronzarsi, che carina, come fa i castelli di sabbia. Vedete, tutte le cose che vi ho detto le sta facendo mostrare. Come vedete, guardate i fondali! Sì, meraviglioso! A questo punto spero di godermi questa espansione al meglio, e non come The Sims 3, in cui c'era quella grandissima problematica, in cui ovviamente l'espansione laggava tutto, c'erano varie problematiche, vari bug, vari lag, eccetera. Cioè, meraviglioso, ragazzi! Oh, si può fare anche lo snorkeling, nuovi capelli, come potete vedere, ragazzi, siamo pieni di capelli, saremo con questa nuova espansione. Guardate, tutto da snorkeling, stupendo, quindi il punto in cui potranno tuffarsi, un po' come The Sims 3, ragazzi. E la cosa che più mi piace è che si potrà giocare con i delfini, quindi si può nutrirli, si può appunto giocare e intraprendere relazioni amichevoli con i delfini. Motoscafi, meraviglioso, meraviglioso! Credo che ci sia anche, credo che ci sarà anche un'abilità, appunto, guardiamo un po' questa zona, un'abilità sui motoscafi, sulla guida dei motoscafi. Come potete vedere, ragazzi, ci saranno l'esdraio, nuovi costumi, nuove magliette, nel bar, ci saranno nuovi bar, diciamo, questa zona tiki, tra virgolette, in cui vendono cocktail, chissà se sarà appunto una carriera attiva, ma non credo, perché non l'hanno detto. Nuovi capelli? No, però ci sarà il succo di cocco, ragazzi, meraviglioso! E qui c'è un barattolo delle mance, strano! E come potete vedere, questa sim si sta lanciando direttamente dalla piattaforma in mare, ragazzi, questo è un grande sviluppo, finalmente, direi! Meraviglioso! E qui passiamo ad una parte che hanno molto parlato all'e-play durante, appunto, la diretta. In questo caso, ragazzi, ci sarà, appunto, una, diciamo, una sorta di mini-storia, quanto ho capito dai loro dialoghi, un po' alla Strangerville, in cui vi è collegata, appunto, una mini-carriera. Sarebbe la carriera, appunto, d'ambientalista, in cui potrete intraprendere insieme ai sim, in cui pulirete la spiaggia e cercherete di farla ritornare alla normalità, come vedete, piena di rifiuti e quant'altro. Tutto questo, appunto, è stata fatta, tutta questa iniziativa, secondo me, anche per il problema dell'inquinamento a livello mondiale, quindi questa è una tematica molto importante che sta introducendo The Sims 4 per la prima volta in tutta la saga di The Sims, e credo che sia una cosa stupenda e molto carina da fare. E, ragazzi, vi dico solo che la vedremo insieme, però, con la mia famiglia della Current Household, quindi preparatevi, perché ci farò, diciamo, alcuni episodi in cui si vedranno, appunto, queste, diciamo, questa piccola recensione. Infatti, come vedete, da sporco, successivamente diventa un'isola, diciamo, paradisiaca, quindi facilmente visitabile. Sono tutti molto contenti, come possiamo vedere. E poi, qui, ragazzi, la mia parte preferita. All'interno dell'isola vi è un vulcano attivo. Questo vulcano attivo, a quanto, appunto, è stato visto nei piccoli pezzi di trailer trapelati all'interno della diretta delle play, il clima sull'isola sarà diverso, un po' come tutti gli scenari, e, appunto, c'è stata anche questa cosa che mi ha un po' terrorizzata, ma questi massi che cadranno, appunto, sull'isola, danneggeranno i sim? Non è stato detto nulla al riguardo, e quindi sono molto curiosa, appunto, su questa cosa. Spero soltanto che non ci sia, diciamo, qualche pericolo, o qualcosa in cui i sim potranno morire, perché ci rimango un po' male. Guardate un po' che meraviglia questa zona qui. In quella sera, credo, si possono riunire per un falò, per eventuali giochi, e questi... Ma no, ragazzi, ma questo, ne vogliamo parlare di questi... di queste tettoie qui, ragazzi, cioè, ma meraviglioso queste... Madonna, ma io non vedo l'ora. Bellissimo, quindi credo che ci sia anche una nuova danza, come vedete nuove capigliature, meraviglioso, nuova danza. Quindi si raccontano le storie... meraviglioso, meraviglioso. E cosa più importante, ragazzi, che abbiamo già visto prima, ci saranno le sirene, e io sono proprio contentissima. Poi, guardate, ragazzi, questa animazione è stupenda, spero che ci sia pure. E anche questa, ragazzi, è meravigliosa, cioè, questa animazione è bellissima. Guardate che meraviglia la coda delle sirene. Meravigliosa, meravigliosa. Una cosa che ho notato, è che... di cui proprio sono contentissima, è che finalmente le sim non hanno le scaglie sulle gambe, quindi le scaglie di pesce sulle gambe. Era una cosa che odiavo tantissimo, e se vi ricordate ne avevo parlato anche sulla serie di Aruka. Ma a proposito di questa serie, ragazzi, all'eplay hanno detto qualcosa che mi ha fatto raddrizzare un po' le orecchie. Praticamente, quest'autunno, uscirà un nuovo game pack chiamato Reami Magici. Non hanno detto nient'altro. Quindi, io, ragazzi, sono veramente emozionata. E credo proprio che la serie di Aruka, non so se continuarla a questo punto, perché vorrei, appunto, esplorare questo pack, quindi questo Island Living, questa nuova espansione, con la mia famiglia, la Current Household, e li mandiamo in vacanza, ragazzi. Quindi ci farò una piccola recensione, quindi qualche episodio così, per vedere un po' i sim che vanno in vacanza, ci divertiamo insieme a loro, e vediamo un po' in cosa consiste questa espansione. Ma per quanto riguarda il game pack, ragazzi, io sono indecisa. Mi consigliate di prendere i sim della serie di Aruka Norman e utilizzarli per il nuovo game pack di Reami Magici, oppure creare un'altra miniserie ispirata a Reami Magici? Io vi lascio un sondaggio in alto a destra, in cui vi invito cortesemente a rispondere, perché tanto abbiamo tempo fino all'autunno, ragazzi, per pensare ad una cosa del genere. E ci tenevo anche a dirvi un'altra cosa, perché siamo appunto a tema magia, quindi siamo capitati appunto nel momento giusto. Io sto attualmente creando una storia su Instagram, quindi su Instagram. Se vi va di leggere un buon fantasy, come si deve, non sto dicendo che sono la scrittice fantasy per eccellenza, però mi sto davvero divertendo un sacco a giocarci la serie, a fare delle foto e a postarle su Instagram, grazie anche agli aiuto delle mie amiche che mi hanno detto dai, ma sì, provaci, cosa potrà mai andare storto? Una citazione di un post che ho pubblicato recentemente, e quindi mi sono buttata e vedo che sta piacendo a tutti la storia. Ovviamente io vi lascerò l'username della mia sim, che in questo caso è diversa, appunto compariranno anche alcune foto della mia sim, in questione della protagonista, però non vi posso far vedere altro, che si chiama appunto Delilah Stewart. Quindi se volete saperne di più, e volete appunto seguire la storia, vi lascerò ovviamente qualche post nella YouTube community, quindi se vi va di seguirla, potete anche andare all'interno della mia community e cliccare sul link che vi lascerò presto, ovviamente farò un post domani, perché sennò adesso non lo vedrebbe nessuno, quindi niente. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, nella diretta dell'eplay hanno detto tantissime cose su The Sims, dal 18 giugno verranno aggiunti nuovi elementi del CAS, credo in modalità costruisce e quant'altro, per quanto riguarda il Pride, quindi in questo caso il mese del Pride, e sono davvero contenta, perché The Sims 4 è un gioco molto accessibile, molto, diciamo, con molte possibilità, e mi piace un sacco questa iniziativa. Non ho capito se sarà qualcosa di gratuito, quindi un aggiornamento gratuito o meno, comunque qualsiasi cosa sia, credo che sarà stupenda. E poi hanno accennato ad una nuova uscita di uno Stappek, ovvero Moschino Stappek hanno detto, qualcosa del genere, in cui sarà inserita, se non erro, come ho capito, una carriera freelancer da fotografa. Guardate, io prenderei lo Stappek soltanto per la carriera da fotografa, non me ne frega niente di Moschino, se devo essere sincera, però non so, devo ancora capire meglio queste cose, perché parlavano in maniera molto veloce, quindi hanno dato poche informazioni, e niente, diciamo che non si sono concentrati molto su altro, solo su queste info, su nuovi game pack futuri, e sono molto, ma molto contenta. Dunque ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, quali sono gli elementi che vi piacciono di più di questa nuova espansione, io ragazzi sono troppo emozionata, non vedo l'ora che esca, spero che questo video vi sia piaciuto, se si lasciate tanti piaci e commenti, ci vediamo nei prossimi video che arriveranno presto ragazzi, purtroppo questa è serata, diciamo, purtroppo questa è settimana di esami di nuovo, quindi se non sarò tanto presente di nuovo appunto per questa ragione, un bacio e ciao! Ciao!